Durante una visita panoramica nella città di New York, il Papa chiede allo suo autista di voler guidare la limousine. Allora l'autista gli risponde, ma vostra eminenza non so se è possibile. Allora il Papa risponde, oh Filippo se te lo dico io. E allora così l'autista gli fa guidare la limousine. Il Papa si mette alla guida e comincia a girare per le vie della città. Vengono fermati da una pattuglia. Appena il poliziotto si avvicina alla macchina rimane spalordito, non sa come comportarsi e si rivolge ai superiori. I superiori dicono che è successo. Allora il poliziotto ho fermato una macchina che c'è una persona davvero importante. Una persona importante risponde il superiore. Chi è? Il ministro dell'interno? No, no. E chi è? Il presidente? No, no. E chi è? Io non lo so chi è. Comunque è una persona veramente importante. Pensi che come autista ha addirittura il Papa. Ui. 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 Ui.